e salve a tutte ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video oggi siamo a Rasiglia in Umbria un piccolo borghetto vicino Foligno per visitare appunto questo borgo che viene chiamato o la Venezia Umbria o il borgo dei Ruscelli e dovrebbe essere molto bello quindi andiamo subito a vedere ed eccoci arrivati Adesso camminiamo in questa direzione per raggiungere il cuore del borgo Ed eccoci finalmente arrivati nel centro di Rasiglia Grazie a tutti Eccoci qui questo è più o meno il punto più centrale del borgo questa terrazza da cui si possono ammirare i canali Eccoli qua E anche qui da quest'altra parte continuano sempre i canali Ed eccoci qui dal basso di questa cascatina possiamo vedere come esce l'acqua e qui appunto le case eccoci qui E qui arrivati a un altro scorcio e sempre qui sui canali infatti non ve l'avevo detto ma in questi canali scorre l'acqua del Menocle e qui l'acqua scorre attraverso delle opere di canalizzazione determinando un imprezzo di base e cascatelle all'interno del paese quindi di Rasiglia qui dentro troviamo un telaio meccanico di fine ottocento sempre qui a Rasiglia Rasiglia ragazzi è veramente magica venite a vederlo Altro scorcio sempre qui a Rasiglia vedete qua la via principale del borgo e qua tutta l'acqua che scorre nei canali Altro scorcio sempre inizio Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.